Inizieranno entro l'estate i primi lavori sulla Maiella, presentati oggi gli interventi del lotto 6, che riguarderà viabilità e strutture ricettive, per un valore di circa 1 milione e 800 mila euro. I lotti per gli interventi programmati sono in tutto 7, per un volume d'affari di oltre 20 milioni di euro. Già dal prossimo inverno, l'offerta turistica della montagna abruzzese potrebbe essere in parte rivoluzionata. Alla riunione di oggi, in presenza o in via telematica, hanno partecipato gli amministratori dei comuni interessati, il presidente della provincia di Chietimmenna, i rappresentanti dei club alpini, i consiglieri regionali Febbo e Blasioli e l'assessore Damario. Devo dire, ringraziando Dio, si è sollevato un balberone rispetto all'afflusso a Passo Lanciano, perché ringraziamo Dio, stiamo avendo una stagione invernale importante per tutte le stazioni scistiche d'Abruzzo e quindi di questo siamo contenti. Rispetto a quello che presentiamo oggi, era un'unione con i sindaci, con l'ente parco, con le province per presentare intanto il lotto 6 che vedrà l'iniziazione dei lavori in estate e per presentare lo stato d'avanzamento di tutto il progetto, che come diciamo è un progetto di circa 20 milioni di euro, un progetto complesso perché praticamente è totalmente ricadente in aree protette, in aree particolari della Maiella e quindi per quanto riguarda i parcheggi di scambio, previsti, una sul versante Chietino e due sul versante Pescarese, devo dire che su quello Chietino siamo un po' più avanti, però di pari passo procede anche la progettazione degli altri, che riguarda gli impianti di risalita e un po' tutta la valorizzazione di questa, che io ritengo sia una delle più belle montagne, diciamo una delle più belle stazioni scistiche d'Abruzzo, soltanto se pensiamo che sciando si può guardare il mare Adriatico e quindi diciamo sicuramente una particolarità tutta sua. I lavori dovranno svolgersi in un'area protetta all'interno del Parco Nazionale e quindi saranno soggetti a molti vincoli ambientali. Il parco finora è stato molto disponibile, ha detto da Mario, ma i tempi saranno ancora lunghi. Completamente diciamo che è una tempistica ancora lunga, diciamo sono progetti importanti, i 70 milioni di euro e tutti ricadendo in area protetta, quindi oggi non mi sento di dire una data precisa della fine del lavoro, però stiamo andando avanti, stiamo lavorando alacremente e se c'è un clima di cordialità di tutti gli enti, perché diciamo che è un progetto che comunque vede coinvolti diversi comuni, due province e soprattutto il parco, che devo dire ringrazio perché ha un ruolo non solo di controllo ma propositivo rispetto a tutti gli interventi che stiamo attuando.